Buonasera direttore Giovanni Vigilante Solofoggia, non abbiamo avuto modo di sentirci ieri in trasmissione, ci sentiamo oggi. Volevo che ci facesse un riepilogo di come è andata, come sono andate le ultime giornate di mercato quando lei si è recato a Milano e se il Foggia pescherà dai cosiddetti svincolati per rinvoltire la rosa. Buonasera a tutti, innanzitutto noi abbiamo cercato di fare un mercato oculato mettendo dentro dei giocatori di qualità ma anche dei bravi ragazzi perché comunque questo è un gruppo per me importante, quindi è stato già costruito un gruppo importante, quindi l'abbiamo rinforzato secondo me nei reparti dove avevamo bisogno di qualcosina, sia dal punto di vista della personalità che dal punto di vista della qualità tecnica. Naturalmente tutti gli obiettivi che ci eravamo posti sono stati portati a buon fine perché tutte queste operazioni di mercato, tranne il portiere che è nata l'ultimo giorno di mercato ma che comunque eravamo anche su un altro portiere importante, tutte le altre operazioni, comunque erano operazioni che erano già iniziate già prima dell'inizio del mercato. Per quanto riguarda il mercato degli svincolati, noi siamo attenti a tutto e come ho sempre detto all'inizio del mercato, qualora ci fosse qualche giocatore importante e di qualità che potesse fare al caso nostro, noi ci faremo trovare sempre pronti. È vero che Nicoletti è saltato proprio per questioni di tempo? Sì, Nicoletti è saltata per 5 minuti diciamo, però avevamo trovato tutti gli accordi con la Reggiana che era la società di cui deteneva il cartellino, in prestito dal Crotone però non l'abbiamo fatto in tempo. Grazie. Eccomi, buonasera direttore, Raffaele Fiorella, Gazzetta del Mezzogiorno, manca qualcosa all'organico numericamente? Cosa volevate fare in più nell'ultima giornata? Un difensore centrale, un esterno di centrocampo, un attaccante, qualcuno di questi tre o tutti e tre che poi non sono andati a buon fine, com'è stata l'ultima giornata? No, numericamente secondo me ci siamo perché comunque l'idea è anche quella di valorizzare i prodotti del nostro settore giovanile e quindi magari qualche giocatore importante che abbiamo giù in primavera di portarlo su come abbiamo già fatto con Battimelli e con Capogna che sono secondo me due giocatori di buona prospettiva quindi numericamente comunque comunque ci siamo. Quindi sono soddisfatto, siamo sicuri che con la società abbiamo cercato di mettere una buona squadra su e di accontentare Gallo in quelle che sono state le sue richieste quindi adesso sarà il campo a giudicare il nostro lavoro. Suppongo che per il ruolo di portiere titolare adesso è un duello tra Tiam e Nobile non ho visto tra i convocati dal Masso, cioè qual è la situazione di Dalmasso e Raccichini? Naturalmente abbiamo una lista di tre portieri, in questa lista abbiamo dentro Tiam, Nobile e Raccichini. Raccichini c'è un problema momentaneamente fuori per infortunio e quindi queste sono ad oggi le gerarchie dei tre portieri. Buonasera direttore, per chi non può passare Foggia Sport 24. La domanda è brevissima ma perché si lamentano tutti? Perché ci sono tanti scontenti? Scontenti di una squadra che è quarta in classifica. Magari sarà quinta se qualora il Picerno dovesse vincere domani. Che cosa c'è da essere scontenti? I giocatori sono arrivati e aspettiamo anche Vacca. C'è questo che non riesco a capire, ma che vogliono? Purtroppo non dipende da me. Noi siamo convinti di avere un gruppo importante, siamo convinti che comunque fino all'ultima giornata di questo campionato daremo tutto. Poi sarà, come ho detto prima, il campo a dare il verdetto finale. Noi stiamo costruendo un sogno, lo stiamo costruendo con umiltà, con sacrificio, con il duro lavoro e poi vediamo dove riusciamo ad arrivare. Siamo in semifinale di Coppa Italia, siamo ad oggi quarti in classifica, abbiamo recuperato altri due punti sul Pescara, stiamo dando continuità oltre ai risultati, secondo me a dimostrare la nostra identità. Abbiamo trovato un equilibrio e quindi sono veramente contento degli ultimi quattro partite.